E attenzione, investiamo anche sul futuro. Un miliardo e quattrocento milioni vanno al rafforzamento del sistema universitario e del sistema della ricerca. Abbiamo avuto consapevolezza tutti quanti in questo periodo di quanto sia importante rafforzare il sistema della ricerca, da tutti i punti di vista. Questo è un investimento importante. Avremo nuovi quattromila ricercatori. Ci auguriamo che tanti i nostri brillanti giovani che sono andati all'estero potranno orientare. 300 milioni per il diritto allo studio, 600 milioni per la ricerca, 500 milioni per l'università.